Ci occupiamo di sanità, senza Bavaglio vuole occuparsi di sanità ascoltando, o meglio commentando le favole, le bugie che un altro Pinocchio della politica va propinandoci. Mi riferisco al governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, aspirante segretario nazionale del PD, aspirante premier, aspira a tutto, forché evidentemente a fare il presidente della regione Puglia. Ha infatti detto che presto l'ospedale San Marco di Grottaglie sarà attivo. Mi viene da ridere, per non dire da piangere, perché sinceramente se noi pensiamo allo stato di decozione in cui si trova il San Marco e gli atti che sono stati compiuti relativamente al San Marco, è chiaro che non potrà mai e poi mai essere attivo il San Marco. Il San Marco di Grottaglie è un ospedale, una realtà sanitaria in rottamazione. Già chiusi il punto nascita, il pronto soccorso e ancora ridotti ai minimi termini i reparti di chirurgia, di medicina ed ortopedia. Penso alla chirurgia con un funzionamento H24, penso alle difficoltà che il laboratorio di analisi e il reparto radiologia vivono. Insomma è una realtà davvero, l'ho detto, ridotta ai minimi termini. Emiliano sogna. Le favole di Pinocchio Emiliano però si scontrano con gli atti, come detto, relativi al San Marco, perché quando si prevede la trasformazione del San Marco con 40 posti letto per la riabilitazione e 32 per la lungodegenza, è chiaro che la destinazione del San Marco è ben altra rispetto a quella di un nosocomio, di un ospedale vero e proprio. Per quanto riguarda la riabilitazione, la destinazione per i privati, quindi la destinazione dovrebbe essere affidata ai privati, stanziati mi pare 32 milioni di Euro. Se poi sommiamo questi 32 milioni di Euro agli altri 840 milioni di Euro destinati al privato, vediamo che con la giunta Emiliano, con il governo Emiliano, il pubblico nella sanità scompare quasi, viene sempre più marginalizzato, mentre il privato evidentemente fa i comodacci propri. Questo per quanto riguarda il San Marco, ma se vi fossero altre strutture pienamente efficienti e capienti soprattutto, potremmo anche sorvolare, ma così non è, perché se consideriamo il Santissima Annunziata che scoppia letteralmente, l'ospedale Santissima Annunziata, mi riferisco soprattutto al pronto soccorso, scoppia con le barelle nei corridoi, questo è accaduto anche nel reparto di medicina. Insomma, rendetevi conto in che condizioni siamo. Come ci si può permettere di chiudere una struttura come il San Marco per far poi scoppiare il Santissima Annunziata? Cioè, si tolgono posti letto e si va a far scoppiare, esplodere il Santissima Annunziata, che ha determinati posti letto, non vengono moltiplicati i posti letto del Santissima Annunziata, così come il personale del Santissima Annunziata, numericamente è quello che è, oltre appunto non può andare. Quindi, da un lato noi andiamo a strozzare, a ridurre, ad annullare il San Marco come altre strutture ospedaliere, da un lato andiamo a cancellarle e dall'altro dobbiamo far implodere ed esplodere il Santissima Annunziata. Questa è la filosofia di Michele Emiliano. Un gran parolaio, un gran ciarlatano della politica, un grande ipocrita politicamente parlando, un affossatore dei diritti dei malati. E allora ben venga la protesta dei cittadini di Grottaglie e non solo, della realtà ionica in generale che vuole difendere con le unghie e con i denti la permanenza del San Marco. E anche noi tarantini dovremmo batterci per l'esistenza del San Marco per evitare che di fatto anche il nostro Santissima Annunziata diventi poca cosa alla luce appunto di ricoveri su ricoveri, di esigenze sanitarie che vanno a moltiplicarsi all'infinito alla luce appunto della chiusura degli altri non so comi ionici. Questo è senza bavaglio. Un senza bavaglio che, come vedete, non fa sconti a nessuno. Da un po' di tempo noi stiamo insistendo su Emiliano, ma non perché ce l'abbiamo con Emiliano, perché su tutto si può giocare e speculare, ma non sul diritto alla salute. Ed è ancora più grave che queste scelleratezze in ambito sanitario non siano fatte da un pinco pallino, ma da un uomo che dovrebbe essere delle istituzioni, della legge. Il tale ex magistrato Michele Emiliano. Senza bavaglio. Informazione libera. Sempre.